Assessore, notizia di poche ore fa che a Pescara potranno essere fatti tamponi anche nella palestra della scuola Foscolo. Allora, ieri abbiamo concordato con la ASL che oltre ai tamponi che si fanno allo stadio dal lunedì al venerdì abbiamo deciso di fare i tamponi anche il sabato e la domenica, quindi è stata scelta la scuola media Foscolo e quindi da sabato sarà attivata la procedura per fare i tamponi anche alla scuola media. In Abruzzo i casi stanno aumentando, però nelle scuole grandi numeri non ce ne sono. Mi riferisco soprattutto alle scuole superiori dove veramente i ragazzi che sono quasi tutti vaccinati non hanno problemi. Forse qualche problema ce l'abbiamo alle scuole che fanno riferimento alla scuola elementare e alla scuola media. Comunque l'obiettivo dell'amministrazione comunale, Assessore, è quello di continuare a lavorare per tenere le scuole aperte per far sì che le elezioni possano proseguire in presenza. Allora, io ieri ho fatto presente proprio questa situazione alla ASL perché sarebbe a livello psicologico per i ragazzi un risultato negativo al massimo, quindi io mi sono battuto per far sì che le scuole rimancano aperte. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.